Questa film si chiama Cinema Perdizio, un film drammatico. Parlare di uno piccolo bambino chiamato Toto. Lui ha trovato l'amore per il film e va spesso al cinema, si chiama Cinema Perdizio. Toto fa inizio i suoi film con nuovi amici e in particolare l'amica si chiama Elena. Durante il film Toto si cresce e deve uscire da un altro paese perché la vita in Italia non è realistica.